signori e signori buonasera e benvenuti io sono virginia antonini e ho l'onore di darvi il benvenuto in questa magnifica sede storica di palazzo vi andrate è una grandissima emozione per noi questa sera ospitarvi in questo luogo e nella cornice di questa manifestazione che sosteniamo da sei anni con grandissimo orgoglio ma è anche un grande motivo di emozione vedervi finalmente in presenza finalmente siete tutti qua finalmente possiamo vederci non attraverso uno schermo questa sera sarà un evento ibrido saremo presenti alcuni di noi qua altri ci seguiranno online su tutti i canali social ma per noi è un grandissimo onore potervi ospitare qui questa sera abbiamo un grandissimo ospite che ha saputo raccontare una storia una storia che coniuga la nostra storia la storia di 193 anni di reale mutua il cuore di questa compagnia e coniugarla alla sua storia diamo il benvenuto a alessandro d'avegna grazie buonasera dedico questa lettura a caterina che è la più giovane dei presenti come ti dicevo caterina la letteratura serve a scoprire cose nuove ma anche a riposare quindi se tu ti addormenti mentre io leggo è una buona cosa è segno che ha funzionato sono contento di essere qui vi ringrazio per l'invito anche perché è un pezzo di mondo che ho scoperto io sono di palermo abito a milano e sono legato a questa città perché il film del primo romanzo che ho scritto è stato realizzato proprio a torino che è una città che ho conosciuto grazie a questa possibilità e di cui mi sono anche innamorato per questo e non riesco più a separare l'immaginario del mio primo libro da dalle vie di di questa città quando sono venuto a vedere il museo dell'archivio avevo l'ansia di trovare l'ispirazione che non è qualche cosa che insomma accade a comando e quindi in quella visita bellissima che ho potuto fare insieme a chi mi ha guidato ero a caccia di dettagli che potessero accendere l'ispirazione per questo racconto ed è accaduta una cosa che mi succede da quando sono bambino scusate questa premessa ma credo serva un po' a riscaldare l'ambiente perché se mi metto a leggere una cosa che ho scritto mi annoio io e poi annoio voi e quando ero all'asilo tu fai la scuola materna no caterina ecco sappi che dopo finisce tutto perché allora si chiamava asilo adesso si chiama scuola materna è l'unico posto in cui giocare e imparare coincidono poi non si capisce bene perché l'occidente a qualche bivio ha sbagliato strada e ha separato queste due cose io ero all'asilo avevo cinque anni e la mia passione caterina era giocare col pongo era il pongo degli anni ottanta un pongo che se io controllo sotto le unghie ancora trovo non so se vi ricordate quanto era invasivo quel pongo adesso ci sono invece dei prodotti meravigliosi che si staccano subito e con questo pongo costruivamo nastronavi personaggi che poi inevitabilmente finivano in una grande palla marrone perché tutta l'avventura poi portava questa distruzione e un giorno la maestra Gabriella Caterina mi disse Alessandro oggi cambiamo classe perché perché la mia mamma che come tutte le mamme e sicuramente come la tua mi sopravvalutava era convinta del fatto che io potessi andare in prima elementare con un anno di anticipo e io dico alle mamme mamme lasciateci giocare non c'è nessuna fretta non dobbiamo correre da nessuna parte e allora io lascio il mio pongo e vengo accompagnato in questa classe in questa classe di prima elementare non ci sono i banchi a quadrato a cerchio al centro di questo spazio non ci sono i colori e tutto quello che serviva per inventare i giochi ma c'erano i banchi a trincea così come siete voi adesso e non vedevi più il volto dei tuoi compagni ma la schiena allora l'ambientazione cambiava già l'atteggiamento quando tu vedi la schiena di qualcuno gliela devi coprire perché c'è un nemico comune in prima elementare la maestra sta lì alla cattedra non gira attorno a quelle isole quadrate o circolari dell'asilo sei solo l'ultimo banco era rimasto libero perché sono andato lì qualche giorno dopo l'inizio della scuola e non conoscevo nessuno non c'era il pongo nel mio immaginario c'erano le tabelline voi dovete sapere che tutti gli scrittori nascono da un trauma io credo di essere diventato scrittore per il trauma delle tabelline ci sono scrittori più seri di me che hanno traumi più seri io mi limito alle tabelline se io vi incontro per strada e vi chiedo chi ha scritto i promessi sposi voi mi sorridete e rispondete se io vi incontro per strada e vi chiedo a bruciapelo sette per otto in voi si configurano una serie di sofferenze che sono scritte nella vostra carne perché sette per otto rimane un dilemma a qualsiasi età anche se rispondete a bruciapelo mentre dicendo alessandro manzoni siete felici dicendo 56 credo che sia sette per otto non l'ho mai imparato c'è un momento di non ve lo ricordate allora io ero lì solo e non avevo il pongo non conoscevo nessuno e c'era la maestra che snocciolava queste questi numeri mi sono guardato intorno e c'era qualche cosa che mi ha salvato lo vedrai l'anno prossimo tu farai la prima elementare l'anno prossimo giusto ci sono dei cartelloni in prima elementare con delle immagini e con su scritte le lettere che devi imparare a leggere e a scrivere ma questi cartelloni cosa hanno di bello che al centro hanno un'immagine che tu associ a quella lettera adesso facciamo un esperimento sociale se io vi dico voi subito a che cosa pensate a un ognomo certo se io vi dico f subito a cosa pensate a una farfalla bravi vedete siamo tutti stati rovinati dai quei cartelloni cioè il nostro immaginario è determinato da quei cartelloni allora io ho detto cosa posso fare che non ho il pongo ho scoperto che il pongo lo avevo ancora non era più nelle mie mani ma era nella mia immaginazione io potevo combinare questi personaggi ho cominciato a chiedermi avevo cinque anni cosa fanno questi personaggi quando noi andiamo via da scuola è la mia prima storia che ho raccontato ai miei nuovi compagni in quel giorno di prima elementare era la storia di un ognomo che prende un coltello cartellone della c e siccome lui deve andare in miniera tutti i giorni non vede mai la luce si alza la mattina presto lavora e quando esce dalla miniera è già buio e vede questa farfalla dell'altro cartellone che invece vola libera ed è invidioso dice ma io perché devo lavorare tutti il giorno là sotto e non posso volare e allora prende il coltello dall'altro cartellone decide di tagliare le ali alla farfalla per volare anche lui è una storia drammatica lo so caterina ma era la storia di un bambino che aveva capito che iniziavano degli anni di sofferenza degli anni in miniera e non so quando sarebbero finiti quando tu l'anno prossimo entrerai in prima elementare sappi che sono 13 anni che ti aspettano di miniera io sono professore quindi non è che ti voglio spaventare sarà tutto molto bello però c'è anche un po di miniera non ti dimenticare di procurarti le ali non le devi tagliare a qualcuno ce le hai e devi imparare a volare là dentro anche quando sei in miniera essere contemporaneamente sotto e sopra come come quel bambino di cinque anni tu ne hai cinque credo ecco che immaginava come liberarsi allora mi è sempre piaciuto come scrittore cercare l'invisibile andare a caccia dei rapporti invisibili tra le cose quella storia era una storia molto seria io probabilmente sto continuando a scrivere quell'unica storia in cui quel bambino si chiedeva perché le cose belle devono finire perché le cose belle vengono distrutte perché c'è qualcuno che fa violenza alle cose belle e invece di cercare di viverle le strappa agli altri quindi quando abbiamo fatto questa visita e mi hanno raccontato del fatto che tanto dell'archivio di reale mutua era stato distrutto dall'esondazione della dora nel 2000 15 ottobre del 2000 e ecco che qualche cosa è andato distrutto e in me allora si è risvegliato qualcosa io ho una corda che vibra immediatamente quando c'è qualcuno che distrugge qualcosa e alla fine della visita ho avuto la risposta perché mi hanno fatto vedere alcune immagini di personaggi illustri che erano assicurati con la compagnia e tra questi c'era un mio conterraneo Luigi Pirandello a cui io sono tra l'altro legato perché ha studiato nello stesso liceo dove ho studiato anch'io e mi sono detto ma che cosa avrà mai assicurato Pirandello in questa compagnia e siccome quello che era il documento è andato distrutto il mio divertimento è stato cercare di immaginare quello che è andato distrutto per poterlo salvare almeno con l'immaginazione e questo è il frutto di quella ispirazione io quando leggo consiglio di non seguire sul testo che avete di fronte perché è una tipica conseguenza del fatto di essere stati a scuola 13 anni e io sono insegnante quindi perché perché ci fa dimenticare che abbiamo l'udito e l'immaginazione quindi io presto la voce chiaramente se voi volete leggere leggete fate quello che volete ma magari chiudete gli occhi e lavorate con sensi diversi rispetto al seguire le righe e le parole in modo da vedere l'invisibile vi vorrei portare lì i custodi del fuoco nome luigi cognome Pirandello di anni 33 luogo e data di nascita agrigento 28 giugno 1867 per la precisione caos caos l'impiegato di reale mutua che fino a quel momento aveva tenuto gli occhi sul foglio cercando di non far sgocciolare l'inchiostro e rovinare la sua grafia elegante sollevò lo sguardo su un uomo che non destava alcun sospetto di bizzarria i suoi baffi e la sua garba erano impeccabili l'abito elegante ma ordinario però ora che lo guardava attentamente vide che nei suoi occhi bruciava un bagliore inafferrabile come una luce che crepita in fondo a un tunnel e non si riesce a capire quanto sia distante sì dal bosco intricato che infesta la campagna e credo anche le anime che vi nascono scusi le spiegavo l'origine della parola caos là dove sono nato a professione professore di scuola e non saprei in che senso non credo che la riga giusta sia quella della professione e quale sarebbe qualcosa che abbia a che fare con le caratteristiche fisiche l'altezza colore degli occhi lobo delle orecchie attaccato staccato qualcosa di più simile a un modo di essere che un modo di fare allora forse nelle note speciali potrebbe andar bene anche se fa pensare a qualcosa di strano non lo è sono uno scrittore e non è una professione io preferirei non la si considerasse tale come mai ti capita come il colore degli occhi e la caduta dei capelli è un fatto a cui non puoi sottrarti e non è neanche qualcosa di strano anche se in molti ne sono convinti è solo che ci si sente costretti a puntare gli occhi dove nessuno guarda quando mio nonno mi raccontava quell'incontro a questo punto si fermava come se volesse distillare il ricordo come versava il suo liquore preferito in un bicchiere che tirava fuori solo al momento al momento dei racconti soprattutto rammentando il bagliore di quegli occhi simili a braci nascoste sotto la cenere di un fuoco sopravvissuto a una notte fredda e indifferente e gli si inumidivano gli occhi invecchiando si commuoveva rievocando i ricordi importanti perché le lacrime sono una sovrabbondanza di memoria da cui la vita continua a zampillare e prima di proseguire mi ripeteva che quell'uomo dalla voce nasale tranquilla dal corpo minuto e compassato aveva il fuoco negli occhi le cose che andavano a finire dentro quelle iridi incandescenti diventavano diverse forse inutilmente complicate ma senza dubbio più ricche di enigmatico mistero questo è un tributo abbattiato l'avrete capito tutti mio nonno commentava era come se riuscisse a scorgere una mappa dove gli altri vedevano solo un labirinto e ne gioiva e ne soffriva nello stesso istante come vuole lei professore ma ha già scritto qualcosa? qualche poesia, qualche racconto ma quale giovane che abbia avuto le prime esperienze dell'incanto della vita e del suo corrispondente disincanto non è convinto di dover scrivere quello che prova perché lo ritiene unico ma adesso ho un'idea per un romanzo una grande idea scusi la curiosità e di che si tratta? mi ha sempre affascinato capire come nascono le storie degli scrittori io di uomini e donne ne incontro a centinaia ma gli artisti sono rari solo una volta è venuto un musicista che voleva assicurare le sue mani lei è un uomo attento il mestiere di assicuratore mi ha portato a sviluppare la mia innata curiosità per i comportamenti umani non è un lavoro di scartoffie ma di cuori qui viene gente che senza rendersene conto confida come vorrebbe fare a non morire assicurano i campi assicurano le case assicurano gli animali ma in fin dei conti assicurano la vita propria e dei propri discendenti io ogni giorno trasformo in polizze le loro speranze e i loro sogni perché possano andarsene là fuori dove il caso è sempre in agguato con un po' meno di paura di sognare e di sperare è lo stesso motivo che mi porta qui mi dica allora di questo romanzo ho un certo pudore a confidare i miei segreti posso solo dirle che mi sono immaginato un uomo che per errore viene creduto morto e così può partecipare senza farsi riconoscere al suo funerale durante il quale scopre chi era veramente agli occhi degli altri chi lo amava e chi no in fondo la morte per quanto spiacevole è la forma più precisa di verità della vita e così quell'uomo invece di tornare a casa è divenuto consapevole di tutte le maschere che aveva accettato dagli altri scappa e ne approfitta per essere libero perché non lo era mai stato che idea bizzarra professor Pirandello perché mai un uomo dovrebbe fare una cosa del genere per sapere chi è su via professore ogni uomo dotato di un po' di testa e di esperienza della vita lo sa ogni uomo crede di saperlo ma in fin dei conti è una certezza che gli viene data dagli altri un'identità che gli si incolla addosso come una maschera portandola a convincersi di essere quella maschera anche il nome e il cognome mica se li sceglie e già in quella dote c'è una parte da recitare che non si è scelto non ci avevo mai pensato in questi termini professore ma lei che è così giovane perché si fa tutte queste domande? ha la vita intera davanti? proprio questo è il punto quale vita? la mia? o quella che altri hanno deciso per me? lei non ha mai voglia di scrollarsi di dosso le maschere che ci costringiamo ad indossare pur di essere qualcuno? non ha voglia di andarsene in giro finalmente nudo? nudo? sì, nudo non ti preoccupare come quando ero bambino e neanche sapevo di essere nudo essere qualcuno serve a tranquillizzarci ma la tranquillità troppo spesso la paghiamo al prezzo della libertà lei per esempio è quello che vuole essere o quello che la convenienza le dice di essere? perché dovrei desiderare altro? ho un lavoro, una famiglia, un certo benessere ma sono cose che lei desidera o che le hanno detto di desiderare e le bastano a essere felice? che cos'è la felicità, professore? quella che le persone vengono qui ad assicurare senza mai riuscirci che vuol dire? non scendere a compromessi con la vita e cercare quella vera e quella che io chiamo la vita nuda la felicità è nascosta lì se c'è altrimenti perché tutta questa inquietudine nei cuori umani? professore, lei è un uomo ingegnoso ma scusi la franchezza esagera un po' troppe domande troppe lucubrazioni per questo le ho chiesto di inserire scrittore in un'altra riga è un modo di essere non di accontentarsi della vita un fardello ma si è vivi solo per inquietudine non certo per abitudine ma cosa c'è di male nell'abitudine, professore? nulla ma io sono un inquieto la vita non mi basta mai e l'arte è un modo di vendicarsi vendicarsi forse è meglio dire liberarsi di liberarsi sì, di liberare la libertà non la seguo più non si preoccupi capita anche ai miei migliori amici e persino a me con i miei stessi pensieri andiamo pure avanti passiamo alla sua polizza, professore come lei sa siamo una mutua società di assicurazione contro gli incendi lei che cosa vuole assicurare? vede io sono venuto qui proprio perché so che la vostra compagnia è speciale ha aperto la strada su tanti fronti e quindi vorrei stipulare una polizza altrettanto speciale mi dica sono qui per questo che cosa vogliamo assicurare? il fuoco il fuoco il fuoco qui mio nonno faceva un'altra pausa portava l'indice sulla tempia e mentre faceva il gesto con cui si mima la pazzia si concedeva una risata piena di rughe buonarie poi proseguiva soddisfatto con gli occhi rivolti verso l'alto dove sembrava che i ricordi sfrecciassero come rondini da catturare mentre impazzano nella loro danza primaverile forse non ho capito bene, professore noi di Reale Mutua siamo nati come compagnia che assicura i beni contro il fuoco che manda in rovina patrimoni e famiglie lei mi deve dire quali beni vuole assicurare contro l'incendio un palazzo, una biblioteca, una proprietà io voglio assicurare il fuoco ancora e contro cosa? contro l'acqua professore ma lei sta bene? abbia pazienza, non mi prenda anche lei per pazzo uno scrittore sa di avere una fiamma, una scintilla, un barlume insomma un fuoco che vive dentro di lui gli permette di bruciare tutte le maschere e di mettere a fuoco la vita come dicono i fotografi io ho paura di perdere questo fuoco e di accontentarmi delle cose così come appaiono lei mi sta forse chiedendo di assicurare la sua ispirazione? se vuole chiamarla così ma le ripeto è più simile a un fuoco un fuoco che invece di distruggere crea ma come facciamo noi ad assicurare qualcosa di intangibile come come il fuoco? ma se è proprio contro il fuoco che voi assicurate i beni delle persone proprio per voi non c'è niente di più reale anche se è solo una minaccia, una paura, un evento potenziale e lei vorrebbe assicurare proprio il fuoco è assurdo non è assurdo è solo l'altro lato del fuoco e poi che cosa non è assurdo in questa vita? serve solo un po' di umorismo per accettarlo capisco l'uso della metafora professore ma lei sa bene che il fuoco da cui noi proteggiamo le cose è un fuoco reale che brucia e lascia cenere al posto delle cose che le persone hanno deciso di proteggere il mio è ancora più reale semplicemente fa il lavoro a posto è un fuoco che porta all'esistenza le cose che prima non si vedevano le fa venire alla luce l'unica differenza è il punto di vista lei assicura il visibile contro ciò che lo può rendere invisibile io voglio assicurare all'invisibile di poter diventare visibile è pirandello lei doveva fare il filosofo non lo scrittore ma non è poi così diverso ma io non posso assicurare una metafora professore io capisco il suo discorso per così dire non si offenda letterario ma qui non assicuriamo le figure retoriche lei è sposato? sì ha figli? sì un bambino è una bambina anche lei quando dice amore a sua moglie gioia a sua figlia campione a suo figlio non usa una metafora? mi segue? sì ed è reale quello che lei vuole dire? certo che lo è ecco appunto anzi le dirò di più quella metafora fa accadere nella realtà quello che lei dice è un miracolo un miracolo che facciamo tutti i giorni con le parole io ho bisogno che lei assicuri la capacità di fare questo miracolo questo fuoco che mi permette di inventare le metafore per dire l'invisibile e renderlo reale senza quel fuoco la mia vita non ha senso senza quel fuoco andranno perdute molte cose non solo mie anche quelle di altri uomini che non verrebbero a sapere certe cosettine di se stessi perché nessuno nessuno gliele direbbe lei mi mette in difficoltà professore è la prima volta che mi viene chiesta una cosa del genere lei capisce che se un mio superiore scoprisse che io ho stipulato una polizza a favore del fuoco io verrei preso per pazzo e rischierei il posto e lei non vuole essere pazzo come tutti quelli che dicono la verità ma poi lei perché vuole assicurarlo questo fuoco? perché se dovessi perderlo non saprei più come fare di che cosa vivrei della sua professione con la professione sopravvivo con il fuoco io ci vivo e che mi dice che lei un bel giorno non si presenta qui e dichiara che il suo fuoco si è spento e vuole allora essere risarcito come si fa a quantificare il danno? si tratta di cose che lei non ha ancora scritto e poi lei stesso mi ha detto che è ancora solo un'idea io posso anche accettare che lei sia in buona fede ma provi a mettersi nei miei panni è proprio quello che il fuoco mi permette di fare mettermi nei suoi panni lei mi confonde è questa storia puzza d'imbroglio professore lei viene qui stipo una polizza sul fuoco questo fuoco si spegne e lei vuole i soldi e perché dovrei volere i soldi? che me ne faccio dei soldi? le sembra che con quelli io ci viva? con quelli le ho detto io ci sopravvivo non sono i soldi o le truffe che cerco e che cosa cerca? di dire la verità e questo non può farlo senza assicurarsi che bisogno c'è ho paura paura sì ho paura che quello che io voglio assicurare non interessi a nessuno se lei mi consente di assicurarlo lo facciamo esistere un po' di più e sarà per me più facile proteggerlo alimentarlo coltivarlo proprio come si fa con i beni che abitualmente lei assicura che assicura una casa contro il fuoco non appicca certo il fuoco a quella casa anzi la fa esistere di più gli infonde la sua stessa vita a meno che non sia un delinquente dovrebbe sapere che alcuni lo hanno già fatto professore proprio per incassare i soldi del sinistro anche io sono mancino scusi niente niente pensavo ad altro lei vede che io non sono un delinquente di me si può affidare io le garantisco che ogni anno riceverai i miei soldi e non dovrò mai essere risarcito di nulla se io riuscissi ad assicurarlo darei al fuoco così tanta fiducia che non si spegnerebbe mai glielo ho detto lo faccio esistere un po' di più lo devo fare per il fuoco non per me e quanto pensa possa valere il fuoco faccia lei pagherò questo dipende anche da contro cosa assicuriamo il fuoco glielo ho detto l'acqua l'acqua non ci bastava il fuoco e che cosa sarebbe quest'acqua ha molteplici forme che possono estinguere il fuoco l'abitudine la noia il quieto vivere la menzogna la paura il nulla la disperazione la vanità il successo la pigrizia il disincanto la vergogna l'ipocrisia le certezze la violenza altre metafore? tutt'altro sono nemici giganteschi e all'ordine del giorno nella vita di tutti per questo lei deve assicurarmi il fuoco perché non serve solo a me ma a tutti gli uomini di tutti i tempi in che senso? che l'ispirazione non riguarda solo gli scrittori per quello non è una professione ma un modo di essere lo scrittore cerca solo di trovare le parole giuste per dire ciò che ha visto quello è il lavoro e senza le parole gli uomini non possono diventare se stessi e rivelarsi qualunque uomo se perde l'ispirazione si spegne non diciamo forse così si spegne cioè smette di vivere è un morto vivente corre una gran differenza fra essere viventi ed essere vivi quale professore? il vivente morirà il vivo no il fuoco permette di essere vivi a tutti troppe persone fanno cose che non amano che non li ispirano e per questo indossano maschere io vorrei che nessuno dimenticasse che il fuoco c'è sempre e che le maschere si possono bruciare se lei me lo assicura sarà possibile dirlo a tutti in modo inequivocabile come se assicurassimo una casa una casa in cui tutti possono tornare lei capisce l'importanza della questione? no professore a questo punto interrompevo mio nonno e gli chiedevo perché avesse accettato quella follia e lui mi diceva che aveva visto quel fuoco brillare negli occhi di quell'uomo insieme alla paura se quel fuoco si fosse spento quell'uomo ne sarebbe morto ma noi della compagnia siamo qui per proteggere le cose che servono a vivere lo faccio per lei che è senza dubbio una persona bizzarra ma altrettanto onesta sono nato a caos le preparo il documento mio nonno amava raccontare le storie della sua professione aveva passato una vita a lavorare per una compagnia che amava come una famiglia e grazie alla quale aveva incontrato centinaia di uomini toccato i loro sogni protetto le loro speranze ma aveva anche sentito le loro paure la loro disperazione quando avevano perso qualcosa o tutto per lui non erano dei clienti ma un'enciclopedia del cuore umano nella quale la pagina che preferiva raccontare di cui ricordava ogni dettaglio era questa la pazza storia del professore Pirandello premio Nobel per la letteratura e la sua polizza sul fuoco contro l'acqua la storia più bizzarra che gli fosse mai capitata e quando raccontava la vicenda ripeteva più volte la parola bizzarro gli piaceva in modo particolare poco tempo dopo era il 1904 usciva un libro dal titolo Il fu Mattia Pascal che rivoluzionò il romanzo nel 1921 andava in scena sei personaggi in cerca d'autore che rivoluzionò il teatro nel 1937 il professore Pirandello ricevette il premio Nobel e nel ritirarlo disse per riuscire nelle mie fatiche letterali ho dovuto frequentare la scuola della vita uno scolaro docile se non agli insegnanti di sicuro con la vita il professor Pirandello morì due anni dopo quel traguardo senza avere mai smesso di scrivere fino all'ultimo giorno della sua vita e senza avere mai mancato di saldare il premio annuale della sua assicurazione l'ultima volta che lo fece quasi consapevole si trattasse dell'ultima disse a mio nonno con il quale si incontravano una volta l'anno per quel rito che teneva salda un'amicizia silenziosa ma profonda il fuoco è stato assicurato agli uomini io ne ero solo un custode e questo lo devo a lei grazie per aver creduto alla mia lucida follea l'acqua non lo raggiunse mai solo il fuoco volle infatti che il suo corpo fosse bruciato e le ceneri disperse a caos nel giardino che lo vide bambino e discepolo della vita vicino al bosco intricato che aveva fatto radici nella sua mente e nel suo cuore fu fedele fino all'ultimo a quel fuoco e quel fuoco si consegnò e a quel fuoco si consegnò per rimanere vivo l'acqua però si vendicò in altro modo esattamente un secolo dopo la firma della polizza sul fuoco il 15 ottobre 2000 una piena di fango penetrò nei locali del centro logistico dove era custodito l'archivio di deposito di reale mutua migliaia di metri cubi di acqua trascinati dall'esondazione della Dora divorarono centinaia di polizze e sigillarono tutto sotto uno strato di fango di sei metri l'acqua non inghiottì solo la carta ma la memoria degli uomini e ciò contro cui combattono per rimanere in vita l'ublio per questo gli uomini assicurano ciò che per loro ha valore per non sparire ma l'acqua distrusse la carta non il fuoco quello continua ad ardere nei libri e nella vita di tutti gli uomini che si accostano alle pagine dei custodi del fuoco per riscaldarsi e per riaccendere la scintilla che il loro si è spenta ed è per questo racconto di mio nonno che sono diventato prima professore e poi scrittore per conservare la memoria del fuoco agli uomini che non ricordano più come si accende e così ho provato a immaginare che cosa ci fosse scritto in quella polizza perché si sa l'arte è una pazzia che dice la verità il sottoscritto professor Luigi Pirandello si impegna a versare ogni anno la cifra stabilita per assicurare il fuoco che dà vita all'invisibile perché si ricordi agli uomini per cosa e per chi vivono perché sappiano come essere vivi e non solo viventi l'assicurazione vale contro l'acqua che spegne le vite umane in qualsiasi forma le attacchi si impegna altresì a trasformare questo fuoco in poesie racconti romanzi drammi teatrali che costringano gli uomini a brociare tutte le menzogne e le maschere che si attaccano alla vita come una scorza soffocante fino a renderla una drammatica impostura perché possano abbracciare la vita nuda come fa un bambino come Caterina 15 ottobre 1900 Luigi Pirandello nato a caos custode del fuoco quando chiedevo a mio nonno perché si fosse lasciato convincere da quell'uomo così bizzarro a rischio del suo stesso lavoro mi rispondeva avevo bisogno anche io di credere a quel fuoco stavo assicurando un po' anche me stesso anche io volevo essere un custode del fuoco e soprattutto non avrei avuto questa storia da raccontare a te soprattutto non avrei avuto questa storia da raccontare a te e rideva compiaciuto mio nonno aveva ragione e non lo dimenticherò mai ora che non c'è più soprattutto grazie a questa storia perché noi siamo le storie che ricordiamo di padre in figlio solo così vinciamo la battaglia contro il tempo solo quando finiscono le storie finiamo anche noi per questo non ne siamo mai sazi gli uomini hanno sempre raccontato queste storie attorno a un fuoco e così hanno vinto la solitudine e la paura questo fuoco non può e non deve spegnersi ne va della nostra vita grazie 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 allora la vita di presidente della società ringrazio tutti di essere qui convenuti e anche ringrazio da venia da vera non solo scritto così bene ma anche letto e interpretato il suo scritto in maniera meravigliosa e avvincente grazie mille è un altro racconto tratto dalla storia dalla grande storia di reale ecco io spero che noi si possa sempre continuare percorrere questa vita e questa via e far sì che anche come società noi come tutti i dipendenti si faccia in modo di non spegnere mai questo fuoco tenerlo sempre sempre vivo vi auguro una buona serata grazie a tutti